Ho poco tempo. Non ho tempo per capire come sia successo. Funziona così. Siamo geneticamente progettati per smettere di invecchiare a 25 anni. Il problema è che viviamo solo un altro anno, se non guadagniamo altro tempo. Il tempo è la valuta in corso. Lo guadagniamo e lo spendiamo. I ricchi possono vivere per sempre. Invece noi... Voglio solo svegliarmi senza che il tempo mi sfugga dalle mani. Voglio solo svegliarsi. Grazie a tutti.